come promesso dal supermanuele ha superati 100.000 le 100.000 visualizzazioni dell'altro video oggi ne facciamo un altro siamo sempre al criocenter di lecce stiamo facendo una criolocalizzata oggi ci concentriamo sull'attività di recovery recupero sulle gambe prima localizzata e poi andiamo a fare di là la presso terapia diciamo questo trattamento recovery anche più efficace perché andiamo a lavorare per più tempo sulla muscolatura e aumentiamo la circolazione linfatica e sanguigna in modo che poi con la presso terapia andiamo ad eliminare tutte le tossine che si vengono a creare poster post allenamento si si me lo merito me lo merito ha detto manuele che le ginocchia stanno abbastanza infiammata però non ci credo le recuperiamo grande manu niente ragazzi o sto davvero messo male o mi vogliono talmente tanto bene che stanno provando a mettermi non sto messo malissimo oggi giornata di recupero grandi grandissimi spettacolo un po' la pena sta salendo si sta riempiendosi spettacolo un po' il bacio un po' il bacio un po' il bacio un po' il bacio Grazie a tutti